ciao oscar ciao questo è il tuo orto questo mio orto io sono oscar abito sono donato come vedete abbiamo un po di coste qualche carota prezzemolo e poi per la moglie i fiori perché la moglie è appassionata di fiori questo fiori che piacciono a tutti i fiori abbiamo l'impinto di fiori e poi piante da frutta l'albicocco e la marena e la marena e il kiwi che purtroppo però non sta facendo chi non disperiamo però visto che anche in altri orti il kiwi quest'anno fa fatica quindi se vuole il maschio che in pollina o abbiamo troppi maschi e da quanto tempo hai l'orto qua pensa già il terzo anno hanno orto e le rose l'uva americana il pesco solo che tienilo curato ci proviamo però non vorremmo dare tanti insetticidi perché la vogliamo fare appunto naturale non vogliamo dare questo solo ci vorrebbe insetticidi qualcosa naturale